Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, siamo a giovedì 6 maggio, oggi puntata speciale delle fonti tv, le fonti contro tutti, contro di me, nel senso che doveva pur capitare dal primo marzo, quando siamo partiti con questa cavalcata trionfale di ospiti, doveva pur capitare una volta che un nostro gradito ospite all'ultimo momento, per causa di forze maggiore, potesse dare forfè. È successo ieri con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, che era in programma per oggi, perché cortesemente e dispiaciuto mi ha chiamato dicendo che mi hanno convocato in Commissione domani mattina alla Camera, vi ricordo che Bruno Tabacci è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega sulla manovra economica, lo sviluppo economico, quindi tutti gli argomenti che sono connessi al recovery fund, ai soldi che devono arrivare dall'Europa, motivo per cui noi siamo molto interessati a fare una chiacchierata con lui, come del tutto evidente. Ovviamente essendo venuto ieri in tarda serata, a questo punto oggi facciamo una classica rassegna stampa dei giornali, con Bruno Tabacci, con cui vale la pena di parlare per le cose che vi ho appena detto. Vi ricordo anche che Bruno Tabacci, politico di vaglio della democrazia cristiana, già nella Prima Repubblica, quando è stato addirittura Presidente della Regione Lombardia, non se lo ricorderà nessuno, ma tanto è stato, sfiorato da Tangentopoli delle Mani Pulite, come nel 1992-93 è successo praticamente a quasi tutti i politici, sono stati sfiorati dall'inchiesta Mani Pulite, da cui lui è uscito in tonso, perché poi tutti dicono i politici, la magistratura, ma almeno andiamo a controllare qual è stata l'evoluzione delle inchieste, alcuni politici sono stati condannati in via definitiva, Bettino Craxi lo fu tanto da riparare anzitempo all'estero in Tunisia, Bruno Tabacci fu sfiorato, il suo nome è finito nel tritacarne insieme ad altri, ma è uscito assolto da ogni addebito, dopodiché è traghettato dalla Prima alla Seconda Repubblica, quando infastidiva da sinistra l'alleato Silvio Berlusconi, che lo considerava una specie di spina nel fianco, perché Tabacci gli faceva sempre il controcanto, pur stando insieme nella stessa maggioranza di governo, ma del resto come sapete, questo è un dato caratteristico della politica italiana, si può stare insieme nella maggioranza che sostiene del governo e si sta insieme nelle riunioni del Consiglio dei Ministri e poi quando si esce ci si bastona a mezzo stampa o a mezzo social, guardate cosa sta succedendo tra la Lega di Salvini e il PD di Enrico Letta, tanto che Enrico Letta, hanno raccontato i giornali ancora questa mattina, ha rappresentato al Premier Mario Draghi tutto il suo disappunto per avere a che fare con un alleato di maggioranza come Salvini che dice una cosa in Consiglio dei Ministri e vota in un certo modo, poi esce e ai giornalisti o sui social rappresenta una opzione, una visione completamente diversa e quindi Letta ha detto a Draghi bisogna dire a Salvini che si decida o stai al governo o stai all'opposizione, ci arriviamo. Allora intanto abbiamo selezionato le prime pagine dei giornali, io il primo che ho in lista è quello della conferenza episcopale italiana, il giornale dei Vescovi, l'Avvenire, il quale ha un titolo a tutta pagina sulla svolta sui vaccini, una svolta sui vaccini che ha a che fare con quello che Joe Biden, lo saprete, ha detto a proposito della rinuncia ai brevetti sui vaccini da parte delle multinazionali del farmaco, cosa che ha provocato non poche ripercussioni in borsa sui titoli collegati alle multinazionali che ovviamente adesso sono le destinatarie di questo invito o di questo monito. dice avvenire, Joe Biden ha rotto gli indugi, ha annunciato all'Organizzazione Mondiale dei Commerci, al WTO, che gli USA sono d'accordo sulla sospensione dei brevetti sui vaccini. Una svolta storica, scrive sempre Avvenire, che dopo l'intesa per quanto riguarda l'Organizzazione Mondiale del Commercio Estero che la codificherà, significherà produrre vaccini ovunque nel mondo a prezzo di costo. Poi la prima pagina di Avvenire si occupa delle morti sul lavoro, perché oltre alla storia di Luana, la 22enne che è stata stritolata, adesso poi ci sarà un'indagine della magistratura, si capirà meglio la dinamica dell'incidente, si continua a morire dall'inizio dell'anno, nel primo trimestre di quest'anno 2021, ci sono due morti al giorno, ieri ce ne sono stati addirittura tre, perché c'è stato, scrive sempre Avvenire, un operaio ucciso da un'enorme fresa industriale in uno stabilimento di Bustarsizio e due persone morte dopo il ribaltamento del loro trattore, si può morire banalmente anche per questo purtroppo, ed è un dato strutturale, cioè almeno due morti al giorno per lavoro, cioè due persone che escono di casa per andare a lavorare e guadagnarsi il meritato stipendio, una volta si diceva la pagnotta e non tornano più a casa per un incidente, incidente che può essere causato da una serie di fattori, metteteci anche l'elemento umano, le indagini della magistratura poi servono a questo, spesso però e lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Mattarella, bisogna ricordare che ci sono morti sul lavoro che vanno ricondotte senza ombra di dubbio al fatto che i datori di lavoro, alcuni, non tutti, quelli imputabili, non hanno osservato le norme di tutela e di sicurezza sul luogo di lavoro, questo per quanto riguarda Avvenire, poi abbiamo in seconda battuta il Corriere della Sera, il quale segnala che c'è un nuovo piano per i vaccini, nel senso che la seconda dose per i vaccini Pfizer e Moderna potrà essere somministrata anche dopo 42 giorni, questa è la raccomandazione che arriva dal comitato tecnico scientifico più noto come il famigerato CTS per riuscire a immunizzare più in fretta, quindi non dopo i 42 giorni non si può più dare la seconda dose e buttiamola, no, anche dopo i 42 giorni si può continuare a immunizzare per cercare di immunizzare più in fretta. Dopodiché al centro pagina del Corriere della Sera c'è un'intervista al fidanzato di Luana, la quale Luana appunto, ragazza di 22 anni, madre di un bambino, desiderosa di vedere nella sua vita la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo, aveva preso parte al film di Leonardo Pieraccioni che l'ha ricordato commosso con un post, però nel frattempo ovviamente non è che si fosse inventata il lavoro di influencer, no, aveva trovato lavoro nell'azienda in cui appunto stava operando e in cui purtroppo è morta, proprio perché pensava al futuro del suo bambino, oltre che al proprio, bisogna fare sempre di necessità virtù, una cosa sono i sogni, i miraggi professionali che vanno coltivate come tutte le ambizioni, legittimamente coltivate, poi c'è la necessità pratica di pagare l'affitto, pagare il mutuo, fare la spesa, per cui uno magari nel frattempo si sistema in un'altra occupazione, non è quella che voleva fare e tutto questo rientra nel racconto che fa il fidanzato di Luana al Corriere della Sera, io Luana e i nostri sogni mi hanno tolto il futuro, a fianco al richiamo dell'intervista al fidanzato di Luana c'è la foto di uno dei due assassini, gli americani che all'epoca dei fatti avevano 18-19 anni, i due assassini del carabiniere Cercello, lo ricorderete, successe nel luglio del 2019, una brutta storia di questi due ragazzi americani giunti a Roma in vacanza che vogliono comprare della cocaina, poi non si capisce bene, loro si sentono truffati dal pusher al quale rubano il zainetto, il pusher chiama i carabinieri, i carabinieri intercettano i due nei pressi di Piazza Cavour qui a Roma e dice il PM che ha fatto una requisitoria durissima, un atto d'accusa implacabile nei confronti dei due ragazzi, i due carabinieri, perché erano in due, Cercello e Variale, si sono qualificati, non sono arrivati alle spalle, sono arrivati di fronte, ciò nonostante, senza che abbiano fatto niente, anche perché non avevano armi, sono stati oggetto di una violentissima aggressione, nella requisitore del PM, lo dice il Corriere della Sera e lo dicono gli altri giornali che oggi danno conto di questa condanna all'ergastolo per i due americani, condanna all'ergastolo, ha detto il PM, Cercello è morto per 70 Euro e un grammo di cocaina, questi due ragazzi hanno aggredito Cercello e in 29 secondi, questo ha stabilito l'autopsia, gli sono state inferte 11 coltellate con un'arma da taglio di 18 cm, tanto è vero che poi quando è arrivata l'ambulanza non c'era più niente da fare, perché l'emoragia da queste ferite era tale che nel referto è stato detto praticamente era esanime, perché esangue, non c'era più sangue per quanto riguarda Cercello. Dopodiché, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, di lato ci sono degli articoli che riguardano una vicenda su cui si apre e titola in prima pagina, domani il quotidiano edito da Carlo De Benedetti, il quale domani in prima pagina mette l'inchiesta sulla presunta loggia Ungheria, un luogo di incrocio tra massoni, magistrati, politici che sarebbe emersa perché c'è un imprenditore che ha cominciato a parlare dei suoi traffici, una volta indagato, ha cominciato a rendere confessione, ma questo succedeva già almeno un paio di anni fa e queste sue dichiarazioni sono state portate al vaglio della magistratura che ha fatto le verifiche in un palleggio di rapporti fra le procure dell'Umbria, quelle di Milano, quella dell'Umbria che stava indagando su questo imprenditore, quella di Milano che stava indagando sulle vicende connesse a Leni che sono finite niente tra l'altro poche settimane fa dal punto di vista delle sentenze dei tribunali e poi in questo plot, in questa trama gialla della loggia Ungheria, da una parte c'è anche il ruolo che avrebbe avuto l'ex magistrato, oggi in pensione Pier Camillo Davigo che avrebbe ricevuto un plico, gli sarebbe stato consegnato un dischetto o avrebbe avuto una chiavetta USB o forse era un programma Word con dentro le dichiarazioni di questo imprenditore che accusavano una non meglio identificata loggia che metteva in mezzo anche i magistrati, per cui ci sarebbero stati interventi sulle nomine nelle singole procure, che è un po' la trama e lo sfondo di tutta la vicenda connessa a Palamara, il magistrato che una volta radiato ha detto vabbè visto che è radiata e me come capo espiatorio adesso io racconto tutto su come facciamo il nostro lavoro soprattutto a proposito di uffici giudiziari e di nomite, mettendo in mezzo l'associazione nazionale magistratica e il sindacato delle toghe, ma anche il CSM che è l'organo di autogoverno, organo costituzionale di autogoverno che è presieduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, capite quindi che è un groviglio tale con possibili ripercussioni e effetti collaterali che è una materia da trattare con estrema cautela, ma che va raccontata, perché il problema è questo, non è che siccome è una materia delicata da trattare con cautela la mettiamo nel cassetto, no, anzi siccome investe la magistratura che amministra la giustizia in nome del popolo italiano, sarebbe il caso che su questa vicenda come su tutte le altre, gli organi istituzionali preposti fossero delle case di vetro, trasparenti nel raccontare quello che si vede, quello che si sa, ma anche quello che non si vede, ma sappiamo che c'è. Questo per quanto riguarda domani, che quindi apre perché sta seguendo, c'è anche una foto di Pier Camillo Davigo, la vicenda della cosiddetta loggia Ungheria, presunta loggia massonica, qualcuno ha detto la nuova P2. Dopodomani abbiamo il fatto quotidiano, il fatto quotidiano che diretto da un Marco Travaglio, vedovo di Giuseppe Conte, di cui era un grandissimo sponsor, appena può bacchetta, bastona il governo Draghi, rinfacciandogli le mancanze, la filosofia del fatto quotidiano in questo periodo è, avete attaccato Conte e soprattutto il secondo governo Conte, vi ricordo che noi siamo un meraviglioso paese che in tre anni ha avuto tre governi, questo per dire quanto è stabile la situazione politica e quanto sono anche onesti se volete i partiti quando ci chiedono il voto alle elezioni dicendo noi faremo così, 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 noi gli diamo il voto e poi loro si organizzano ovviamente in maniera diversa, perché dovete ricordare che cosa fu la campagna elettorale in vista delle elezioni del 2018, cosa si dicevano la Lega e i 5 Stelle, il centrodestra e il centrosinistra, dopodiché si è fatta l'elezione e Lega e il Movimento di Grillo, il Movimento 5 Stelle sono andati tranquillamente al governo insieme come se niente fosse con questo signore di cui pochi conoscevano l'esistenza fuori dalla cerchia degli addetti lavori, Giuseppe Conte, il quale prima fa il Presidente del Consiglio di un governo giallo-verde, con un ruolo talmente defilato che tutti noi, a cominciare da me, si ironizzava sul fatto che Conte fosse il vicepremier dei suoi due vicepremier, Salvini e Di Maio, poi Salvini si suicida nell'estate del papete, decide di aprire una crisi di governo che porta lui a uscire dal governo e Conte a diventare Presidente di un governo giallo-rosso, PD 5 Stelle, ma a differenza del precedente governo in cui lui aveva un ruolo marginale, non si capisce bene com'è che con il governo giallo-rosso diventa invece un Premier con gli attributi, soprattutto nella gestione del Covid, sulla cui gestione di Conte, di Arcuri e del governo si potrebbe ampiamente fare ironie, sarcasmi o della filosofia dello spirito, se volete. Rimane il fatto che mentre prima era defilato Conte diventa un Presidente del Consiglio alla Winston Churchill, come disse Nicola Zingaretti, che ha dato alla storia della politica italiana una serie di dichiarazioni meravigliose, a cominciare dai ringraziamenti a Barbara D'Urso perché con la sua trasmissione ciumbia avvicinava la gente alla politica, poi prima di andarsene con le dimissioni ha detto mi vergogno del Partito Democratico, mi vergogno del suo partito perché è da un mese che discute solo di seggiole e poltrone e non di politica, dopodiché è arrivato Enrico Letta. Ma insomma, adesso Travaglio che era un sostenitore, uno sponsor di Conte, di Casalino e del governo giallorosso, siccome è rimasto fregato, dico Travaglio perché non credeva potesse nascere un governo Draghi perché scriveva che Draghi non avrebbe mai accettato di fare il Presidente del Consiglio, dichiarazioni di Travaglio che dimostrano quanto sia profondo il suo acume politico, allora adesso appena può bastona sul governo e quindi non è vero che ci sono 500 mila vaccini, oggi titola, sono durati solo due giorni, siamo tornati sotto, mi verrebbe da dire Marco come si dice a Roma, io non sono romano, mi sono trasferito qui da 30 anni, però a Roma si dice a Marco stacce, ci devi stare al fatto che il governo è cambiato perché Conte non è caduto per una congiura, è caduto perché non aveva più una maggioranza che lo sostenesse, questo vale anche per la destra italiana che invoca le crisi di governo richiamando il fatto che tra la maggioranza parlamentare da un lato e la maggioranza del paese, quella che filtra dai sondaggi, c'è ormai un ampio divario, sì amici del centrodestra, ma fino a quando a Costituzione vigente noi siamo una Repubblica parlamentare in cui il Presidente della Repubblica scioglie le camere se non c'è più una maggioranza che sostiene un governo, mi dispiace, questa maggioranza c'è, poi possiamo inzigare sul fatto che è una maggioranza anomala, raccogliticcia, che mette insieme la Lega e il PD che litigano tutti i giorni, tutto il santo giorno, benissimo, ma fino a quando c'è una maggioranza di governo il Presidente della Repubblica ne prende atto e non scioglie le camere, tra l'altro poi d'agosto neanche questo potrà fare Mattarella perché si entra nel cosiddetto semestre bianco. Dopo il fatto quotidiano abbiamo il foglio di Giuliano Ferrara che ha una titolazione che riguarda addirittura un articolo sopra «Attirare i talenti si può perché l'arrivo dello Special One costringe la classe dirigente di Roma a scegliere tra modello Pupone e modello Murigno». Si fa riferimento al fatto che arriva sulla panchina della Roma cos'è Murigno, peraltro arriva sulla panchina della Roma dopo quattro esoneri, quattro, quindi è a dieci anni dal triplete, lo dico sempre, io tifoso interista, venero Murigno come un santo, ho la sua immagine in casa con la candelina davanti, tutti noi interisti, tutti noi nerazzurri, siamo orfani di Murigno ma sono passati pure undici anni, Murigno che poi se ne andò la sera della, ve lo ricordate, abbiamo vinto il triplete, la sera stessa lascia l'Inter e passa al Real Madrid, pecuniano Nolet, dopodiché esonerato dal Real Madrid, esonerato dal Tottenham, esonerato dal Manchester United, quattro esoneri, tra l'altro dall'ultimo esonero comunque è uscito con 17 milioni di risarcimento a fronte di una clausola contrattuale, è sempre stato molto bravo a capitalizzare, comunque insomma il foglio apre con un riferimento al fatto che la classe politica di Roma dovrebbe prendere esempio da Murigno e abbandonare il modello Pupone, Pupone che è il soprannome peraltro con cui all'inizio si indicava Francesco Totti che della Roma è stato la bandiera, il giornalista, il calciatore simbolo, un po' come lo è stato Del Piero per la Juventus. Dopo il foglio continuo abbiamo il giornale, il giornale della famiglia Berlusconi diretto da Alessandro Sallusti che invece tiene la barra diritta anche perché Sallusti è il coautore del libro con le rivelazioni di Luca Palamara, tiene ovviamente l'obiettivo sulla faida tra giudici, ascoltato da Vigo, Roma e Brescia si litigano l'inchiesta, i veleni di Amara, Amara è l'imprenditore che sta parlando da almeno da un paio d'anni e su cui con grande calma si stanno facendo le verifiche, i veleni di Amara su Lotti, Lotti il quale è stato ministro dello sport nel governo Gentiloni, uno dei principali collaboratori di Matteo Renzi, faceva a spiare dice Amara, quindi bisogna verificare se è vero, faceva spiare il PMI, lo sotto si intravede la capocciona di Michele Santoro, il quale Santoro ha scritto un libro sulla vicenda della trattativa stato-mafia con delle rivelazioni, rivelazioni che gli stessi magistrati delle procure siciliane hanno detto sono dichiarazioni fallaci, sono dichiarazioni infondate, sono dichiarazioni di cui non va tenuto conto, questo nuovo pentito che avrebbe dato un'ennesima versione, tanto è vero che scrive il giornale, la sinistra dell'antimafia dice a Santoro il tuo libro contribuisce solo a fare ulteriore confusione, alzare polvere ed è un depistaggio, dopodiché Santoro vorrebbe tornare in TV, lo sta dicendo tutte le volte che adesso viene ospitato nei diversi programmi a promuovere il suo libro, tra l'altro posso dire, la situazione è anche un po' triste, vedere Santoro che all'epoca d'oro sua soprattutto, d'oro anche quando andò a lavorare nelle reti del mafioso Berlusconi, fece un contratto triennale tra il 1996 e il 1999, Berlusconi con Fedele e con Falunieri raccontarono, stiamo parlando della seconda metà degli anni 90, che il contratto triennale di Santoro era di 12 miliardi di lire, non bruscolini e vi faccio notare che Santoro andò a lavorare da Berlusconi quando Berlusconi era già sceso in politica, aveva vinto le elezioni nel 1994, poi c'era stato il ribaltone della Lega, se era andato alle elezioni aveva vinto Prodi, ma insomma Berlusconi era già un soggetto politico, non era più solo un imprenditore televisivo, quindi ho sempre trovato singolare che poi uno andasse a lavorare profumatamente pagato, beato lui lo dico con invio, da uno che poi lui sosteneva essere uno che era diventato quello che era diventato Berlusconi essendo un paramafioso, forse un problema di coerenza, io se so che c'è uno che mi vuole offrire dei soldi, ma presumo che sia un mafioso o che sia uno chiacchierato, i cui soldi che potrebbero arrivare in me avrebbero un'origine incerta, addirittura nel caso di Berlusconi originaria, la mafia che avrebbe depositato i soldi nella banca che addirittura era del padre di Berlusconi, storie che affondano nella prima Repubblica, bene, perché andarci a lavorare? Ci sono tanti soggetti imprenditoriali, ma lasciamo perdere, la coerenza e la gratitudine sono i sentimenti della vigilia, il giorno di Milano dice virus in ritirata, perché questo è un dato di fatto, lo possiamo girare come ci pare e piace, ma che ci sia la curva in discesa dei contagi e la curva in salita delle vaccinazioni è inoppugnabile, comunque la pensiate sulla dittatura sanitaria che ci obbliga in casa, sul fatto che la gente pazza non ha capito che se non sta in casa fra poco, come dicono i profeti di sventura, il professor Galli o Crisanti, ne vedremo delle belle, anzi delle brutte, torneranno a crescere le terapie intensive e i morti, speriamo di no, il giorno di Michele Brambilla, direttore, dice virus in ritirata, cambia il coprifuoco, governo pronto a spostare la tagliola delle ore 22, le ipotesi limite alle 23 o direttamente alle 24 a partire dal 17 maggio e qui si dà anche conto del fatto che per quanto riguarda i vaccini arrivano le nuove indicazioni del Ministero con il possibile secondo richiamo Pfizer, ben dopo i 42 giorni inizialmente previsti. Sotto in calce tra l'altro poi si dà notizia del fatto che l'ex Presidente americano Trump, essendo stato radiato a vita dai social, da Facebook, si è fatto un suo blog personale, non un social, un blog dove lui dice delle cose, fa delle dirette, non mi sembrano una grandissima novità, poi comunque sicuramente i mezzi non gli mancano. Il manifesto, il manifesto fa un titolo, fa la solita foto notizia, fate la cosa giusta, che è una foto poi della sede del WTO, perché mentre è in corso la trattativa al WTO, quindi l'Organizzazione Mondiale sul Commercio, sulla proposta di India e Sudafrica di sospendere temporaneamente i brevetti dei vaccini contro il Covid, arriva su questa proposta, quindi non è una idea autonoma di Biden come potreste pensare leggendo tutti gli altri giornali, il manifesto mette in fila, sono state India e Sudafrica a chiedere la sospensione temporanea dei brevetti dei vaccini, ipotesi a cui si è accodato dichiarandosi favorevole il Presidente americano Joe Biden, dopodiché sopra la foto notizia c'è il Tribunale ralenta la corsa di conto e cosa è successo? Che secondo la Corte di Appello di Cagliari il Movimento 5 Stelle non ha un vertice riconosciuto legalmente istituito, attenzione, secondo un Tribunale la Corte d'Appello di Cagliari, il Movimento 5 Stelle non ha un vertice legittimo e legalmente istituito, da dove nasce questa decisione della Corte d'Appello? Dal fatto che Vito Crimi, che sarebbe il reggente dei 5 Stelle, ha fatto ricorso contro la decisione in primo grado sempre a Cagliari di nominare una sorta di curatore che fungesse da responsabile legale dei 5 Stelle e questo perché il Tribunale diceva in primo grado che non capiamo questo Vito Crimi che titoli abbia per rappresentare i 5 Stelle, non c'è chiaro come è stato eletto, non c'è chiaro quali siano le sue competenze legali, quindi non riconoscendo ai 5 Stelle un rappresentante legale ne nominiamo uno noi, Vito Crimi dice no sono io responsabile dei 5 Stelle, faccio appello, l'appello dice hai torto Crimi, ha ragione il primo grado, non sei il rappresentante legale dei 5 Stelle, quindi nominiamo un curatore, quindi Movimento senza guida legittima mi chiedo tutto questo come può influire sulla decisione di Giuseppe Conte di voler fare politica facendo il capo dei 5 Stelle, scrive il manifesto, la notizia complica l'ascesa alla leadership di Giuseppe Conte perché adesso ci si aspetta che la Procura esorti l'attuale commissario nominato dalla Corte d'Appello di Cagliari o il garante Beppe Grillo a indire le consultazioni per l'elezione dell'unico organo dirigente attualmente riconosciuto dal punto di vista dello statuto, così come è deciso dagli stati generali dello scorso novembre, cioè una direzione collegiale, quindi se bisogna fare le consultazioni per eleggere un vertice che non può essere incarnato da una persona sola, quindi non Giuseppe Conte, non Beppe Grillo, non Casaleggio, ma da un organismo collegiale e Davide Casaleggio che è entrato in rotta di collisione con i 5 Stelle a conferma del fatto che avevamo a che fare con un momento politico gestito da una SRL, ha detto che le ultime decisioni, alla luce di questa decisione della Corte d'Appello di Cagliari, le ultime decisioni presi dai vertici di 5 Stelle non hanno più valore, è finita a stracci in faccia ed è finita anche questa mezz'ora di notizie di rassegna stampa, ci vediamo domani mattina alle 10, voi continuate a seguire lefonti.tv tutto il giorno e ci ritroviamo alle 10 domani, ma che sarà venerdì 7 maggio. Buona giornata a tutti! Grazie a tutti!